PETROLIO Se l'affare va bene, tiriamo su i soldi per sapare la cooperativa e allora vedi i sorrisi. Michael William Lombelli non si sbaglia mai. Quasi mai. Ogni socio deve versare 25 mila euro. E se il giacimento non c'è? Perdiamo tutto. Non ci sto. Io vado avanti da solo. Vuoi una guerra? Sono sempre stato sulle barricate. Mi si sono messi a litigare come due bambini. Almeno però tuo padre, un sogno ce l'ha. Ti sei sempre l'ermanno, da qualunque parte sei. Ti ho portato dei disegni che ho fatto io. Comunque noi eravamo diversi, eh? Oh, a me questi qua sono tutti un po' cojoni. Noi pensavamo la stessa cosa di voi. Il petrolio non arriva. Sono rovinato. E vai a dar mano. Quello ormai mi odia. Quanto ti serve? Ti è venuta fuori l'anima del petroliere. Ti strega come la maga Circe. A metterò la merceda! Spanisci all'alba. Come i sogni. Io faccio il paraculo, così tu puoi continuare a fare il puro. Giuda! E io non ho mica capito. Allora, Ermanno, è petroliere o rivoluzionario? E adesso, come va fri.